Colossese 2, 6 e 7 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Una persona che ha incontrato Cristo è una persona che si era veduta dai propri peccati e ha ricevuto Cristo Gesù come il Signore della sua vita. E da quel momento in poi decide di seguirlo e fare di Lui il Signore sovrano del suo cuore e di ogni passo che fa. Infatti l'Apostolo Paolo dice camminate in Lui. Un credente sa che la vita è fatta di un passo dopo l'altro. La vita, la nostra esistenza, è paragonata al camminare. E allora l'Apostolo Paolo ci ricorda oggi che noi dobbiamo camminare con il Signore. Come devo camminare con Cristo? Paolo ce lo dice che dobbiamo camminare radicati, edificati in Lui, rafforzati dalla fede, come ci è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Sono bellissime le figure di linguaggio che l'Apostolo Paolo usa. Noi dobbiamo essere, ossia radicati in Lui, ossia devo essere piantato come un albero in Cristo, dove le mie radici vanno a nutrirsi dal Signore, dalla sua parola, che dipendono dalla persona di Cristo. Ma allo stesso tempo io sono edificato in Lui, sono radicato in Cristo, edificato in Lui, come una casa che è costruita per la gloria del Signore. Sono piantato, sono saldo, ma io cresco come un edificio che viene costruito giorno dopo giorno. E non soltanto questo, ma anche una vita che è insegnata, che è stata insegnata nella parola del Signore, che è confermata giorno dopo giorno nella parola di Dio, come un documento che attesta la verità. La nostra vita è una dichiarazione vera che noi camminiamo con il Signore. E non meno importante, noi siamo quella vita che ringrazia, che abbonda nel ringraziare il Signore. Una vita che è con Cristo, una persona che cammina con il Signore, non guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, guarda una vita che dipende dal Signore e anche nelle difficoltà sa ringraziare Dio. Signore, questa giornata noi la dedichiamo a Te, perché Tu possa dirigere il nostro cuore, e noi possiamo fare la Tua volontà. Benedici, Signore, il nostro cuore. Te lo chiediamo per camminare sempre con Te, nel nome di Gesù. Amen. Alba Nuova, dal lunedì al venerdì, dalle sette del mattino. Tempo di preghiere. Invia le Tue richieste di preghiere al pastore Nicodemo Fabiano sul suo WhatsApp 340-237-9339. Noi pregheremo insieme. Io pregherò per Te, nell'amore e nella potenza di Cristo Gesù, per avere comunione con Lui. Alba Nuova, puoi partecipare nella piattaforma di YouTube, youtube.com.nicodemo.f o Facebook, Alba Nuova Preghiera, tutti i giorni dalle sette del mattino, dal lunedì al venerdì. Se non hai mai pregato, se non sai come pregare, vieni a pregare. Noi pregheremo nel nome di Gesù. Alba Nuova, potenza nella preghiera. Metti un like e condividi. Partecipa con noi. Dio ti benedica nel nome di Gesù.